Ritorno di José Macin a pescare cosa fatta? Il primo rinforzo del mercato di gennaio del Delfino è di fatto un déjà vu, perché l'intesa raggiunta nelle ultime ore riporta il centrocampista in Riva all'Adriatico in prestito secco fino alla fine della stagione per dare nuovo slancio alla formazione biancazzurra nella rincorsa alla salvezza che ricomincerà domenica pomeriggio nell'impegno interno contro la Cremonese. L'ufficialità del ritorno di Macin è attesa tra domani e dopodomani al massimo e la società del presidente Daniele Sebastiani ha avuto la meglio battendo la concorrenza del Pordenone e di una squadra spagnola. Decisiva la volontà del giocatore che in Brianza, dopo un avvio incoraggiante, piano piano ha perso posizioni nelle gerarchie di Cristian Brocchi, giocando sempre più a singhiozzo fino alle ultime tre non-convocazioni che sono state un segnale inequivocabile del fatto che il Monza non contava più sul 24enne che a distanza di un anno solare torna esattamente dove aveva iniziato l'annata 2019-2020. Evidentemente il guineano deve avere un feeling particolare con la finestra invernale di mercato perché tendenzialmente è lì che spesso cambia scenario e formazione. È stato così nel 2018 quando il Delfino lo prelevò dalla Roma, è stato così 12 mesi dopo quando dal Biancazzurro abbracciò il Parma in prestito con obbligo di riscatto, il resto è storia recente e adesso può tornare in Abruzzo per dare nuova sostanza ad un reparto mediano che conta anche sulla sua fantasia abbinata ad una buona vena realizzativa. Non ci sarà però il diritto di riscatto, Macigno torna a pescare e ci rimarrà fino al termine della stagione per poi tornare nella società lombarda con la quale ha sottoscritto un contratto fino al giugno del 2024. Al netto dei problemi in difesa che costringeranno in ogni caso Breda ad inventarsi qualcosa come ad esempio Valdifiori al retrato di qualche metro, ora il reparto da tenere sotto osservazione dal punto di vista del mercato è quello avanzato con Fabio Ceravolo che sembra il nome più caldo ma con ogni probabilità è un discorso questo che sarà ripreso soltanto dopo il match di domenica. Irrealistico infatti che la crimonese possa liberarsi di una pedina come il centravanti a poche ore da uno scontro diretto proprio al cospetto dell'avversario che andrebbe a rinforzare dando il via libera alla partenza di Ceravolo. Calano invece le quotazioni di Sebastiano Esposito, Pasquale Marino ha ammesso che il ragazzo dovrebbe tornare presto all'Inter ma il Venezia avrebbe fatto lo scatto decisivo nella corsa al giovane attaccante che nonostante la trattativa sembrasse già a buon punto non dovrebbe però vestirsi di bianco-azzurro.